buongiorno amanti del magic arena siamo partiti con la nuova season oggi è credo il 3 febbraio abbiamo cominciato la ranked e ho svariato un paio di mazzi per chiudere mythic in questo early season entrando 21 dopo ho provato alcuni esperimenti questa volta per ora non hanno funzionato quindi oggi ho deciso di portarvi un video sul mazzo con cui ho raggiunto mythic con uno score importante e soprattutto un mazzo diverso diverso dal solito in questa lada dove principalmente vedete spammati mono red mono white e in generale i mazzi che tendono a essere dal face all'aggro per finire al massimo al mid range sono stato probabilmente uno dei pochi se non l'unico che per ora ha chiuso il mythic con un mazzo controllo ho chiuso il mythic con questo uv che vi voglio portare all'attenzione oggi aspetta che lo metto in maniera che lo vediate un po' meglio lo suddividiamo e cercherò di spiegarvi quali sono state le scelte che mi hanno portato a questa conclusione in questa meta bisogna stare per forza bene da aggro e tra le scelte best of three e best of one è innegabile che la best of one per quanto non sia la modalità regina di magic sia una modalità che ci permette di spingere di più in un formato come può essere una ladder quindi ho scelto dopo degli esperimenti della ladder best of three di continuare nella ladder best of one anche perché il torneo a cui qualificherà questa ladder alla fine del mese sarà un torneo che ha un formato derivato dal best of one che non ha niente a che vedere con mazzi con side decks quindi ignorate la side il mazzo è strutturato per la best of one vi sconsiglio fortemente di utilizzarlo in best of three questo perché perché trovate delle carte che sono sub ottimali che i main deck in un meta dove magari c'è molto meno mono rosso come quel best of three non funzionano così bene allora partiamo dalle scelte classiche trovate blocco dei counter composto da due negate 4 absorb e 2 syncopate su questo poco da dire ci siamo tenuti a quello che è lo standard delle liste attuali absorb meglio di sinister sabotage in quanto ci dà le tre vite in un meta dove c'è molto mono red più utile per il resto diciamo che blocco counter abbastanza stampo monars counter anche qua poco da dire 4 si aumentati da 3 a 4 per l'alta presenza di aggro e contrasto migliore che abbiamo in early game anche visto lo spam di pezzi piuttosto rognosi quale ad unto vanguard in questo meta risultano essere molto efficaci 4 revitalize invece che sono nuovi nell'ottica uv sempre per mono red history of benaglia del quale vorrei discutere a lungo preferisco lasciarvela per ultima che probabilmente è la tech su quale ha più focus il deck blocco remover composto da 3 set of breakage e 2 clean si nuova potete anche fare 2 e 3 al contrario non c'è nessuna controindicazione al riguardo sono mass removal necessari l'importante che siano 5 sono situazionali a volte vi troverete meglio con una nuova in più a volte con un set of breakage in più tripla canister invece di 4 sempre perché il meta è molto veloce e in molti match up non si riescono a utilizzare meglio i soliti 4-8 feri e 2x landbinding carta a mio modo di vedere è fondamentale in questo meta ci permette di avere degli out importanti da mazzi come turbo fog che sono comunque molto presenti nonostante il meta sia prevalentemente aggressivo togliendo la loro winning condition teferi andando a dare fastidio su reclamation e in generale non è quasi mai una carta morta arriviamo dunque alle tre benaglia che sono la carta chiave solitariamente il mazzo va a giocare carn in singola duplice copia per avere una winning condition ulteriori a teferi che vi ricordo che è già di persona winning condition io ho scelto history of benalia perché oltre che a fare da potenziale winning condition post emblema di teferi post aver rimosso tutta l'età nel nostro orsario history of benalia è anche un'ottima carta che ti permette di cercare di saturare quelle che sono le mancanze che ha il mazzo nearly game ho scelto proprio history of benalia anche perché il mazzo latita 3-3 latita molto non ha la possibilità di fare quasi niente in curva a tre a meno che non hai un absorb in mano giocherai un drop a due giocherai una counter a due fare un ciclino ottimizzare il mana in questo meta è molto importante quindi anche andare a cercare di saturare la curva sfruttando al massimo la nostra potenzialità a livello di mana è molto importante per quanto riguarda le terre invece abbiamo deviato un po dal classico inserendo una zarious gigate questo per dare la possibilità di avere il doppio bianco quello che ci serve per benalia il doppio blu quello che ci serve per sorb il doppio bianco ancora per sette o nove insomma abbiamo bisogno comunque di tanti mano specifici nonostante il mazzo sia solamente un bicolor quindi ho preferito aggiungere una gigate al posto di una pianura e di ridurre di sacrificare sull'altare lo slot del memorial to genius numero 2 ultima terra che ho inserito è al posto di un'isola ed è un field of ruin questo si gioca a volte due pera a volte uno pera a volte non si gioca principalmente anche qua l'utilizzo primario di field of ruin è quello di andare a togliere la scanta trasformata visto che il mazzo non ha praticamente mai possibilità di andare a levarla utile contro fog utile contro asper utile nei contro match up prevalentemente ma non è una carta morta neanche contro mid range visto che va a togliere ad esempio la memorial to folly che va a riprendere un pezzo al cimitero o magari a negare il colore di uno splash visto che ci sono molti tricolor che utilizzano pochissime lande base e molto spesso a post set of the breakage oppo si trova nella condizione di non avere così tante terre base da poter scegliere in marzo lo slot del secondo field of ruin l'ho sacrificato perché a volte mi ho un po' cocciato con absorb che sono tre mani specifici e molto spesso in un meta così aggressivo lo vuoi avere attivo al terzo quindi non vuoi quasi mai fare field of ruin nei primi tre turni e quindi non vuoi trovartene due in una starting end parlando di match up invece mazzo si comporta abbastanza bene contro quasi tutto il meta ha più counter di un esper quindi si trova abbastanza bene ha delle risposte a fog che è un match up difficile sicuramente ma con queste modifiche risulta potersela giocare quasi alla pari ed è un mazzo che comunque grazie a revitalize absorbe tutto il life game che può fare se lo gioca tranquillamente anche contro mono red i match up sicuramente favoriti sono mono white, boros, salansia tokens su tutti e tutti i mazzi che vanno a swarmare a espandere il proprio board al massimo il potenziale per il resto cosa posso dirvi di questo deck è una scelta strana è una scelta diversa come sapete non mi piace mi piace sempre andare sul tier deck mi piace anche costruire anche provare e sperimentare spesso queste build fatte in casa poi mi risultano essere le più efficaci come avete visto con le build un po' strane di selesnia token come avete visto con le build un po' strane dei golgari con cui ho fatto anche uno legend quindi uno meeting scusate quindi ho deciso di portare qualcosa di diverso e cercare di provare qualcosa di diverso in un meta che non è proprio freschissimo almeno per quanto riguarda best of one piccola parentesi best of three è un meta almeno ai piani alti decisamente più bello e decisamente più divertente in questo momento quindi vi consiglio questa lista se siete amanti dei control probabilmente assieme a esper una delle poche liste che può rivaleggiare nel meta best of one e vi ricordo che questa lista è strettamente buildata per il best of one quindi non potrà dare sicuramente il meglio di sé mantenendolo uguale in un formato best of three io vi ringrazio e vi saluto come sempre e vi lascerò la decklist in descrizione vi ricordo che a volte il bot si bagga leggermente quando viene inserita una carta full art in questo caso c'è un tefer in lista quindi se non ne vedete quattro mettetene quattro sono le carte che vi mancheranno nella costruzione del deck ciao belli alla prossima grazie a tutti